Questo rapporto come si attualizza? Il rapporto tra cliente e provider viene regolato da delle contrattualistiche specifiche che seguono quelle che sono le normative italiane ed europee con l'assessura di agreement tra il cliente e il provider che poi vanno a variare a seconda della tipologia di attività. Solitamente le aziende vengono in Mercurio per qualificarci come fornitori prima di affidarci eventualmente un contratto, valutare se il nostro sistema e il nostro modo di lavorare in linea con le esigenze che l'azienda ha e poi successivamente stipulare un contratto con un accordo specifico sia di carattere commerciale ma in particolar modo di tipo regolatore con dei capitolati tecnici che vanno a regolamentare nello specifico l'attività che poi viene assegnata e commissionata a Mercurio. Grazie